Danilo D'Ambrosio, buon inizio di stagione, si parte già con un trofeo? Sì, negli ultimi anni è stato di buon auspicio, speriamo lo sarà anche quest'anno. Senti, abbiamo visto tante novità oggi, ci sono stati tanti cambi, però il feeling è sempre essere lo stesso, anche se solo calcio estivo, che indicazioni avete avuto e come vi sentite? L'importante è sempre vincere, a prescindere da chi affronta, anche in queste partite qua per l'August Team, per i nuovi giocatori che sono arrivati, è importante far capire che a prescindere da chi affrontiamo l'importante è che l'Inter vinca. Ci sono state delle buone cose, altre cose da migliorare, però siamo solo all'inizio, abbiamo anche dei carichi di lavoro importanti da smaltire, c'è tempo per farsi davanti. A questo proposito le prime indicazioni che sono arrivate da Inzaghi, quali sono state? Sono state quelle di, come abbiamo detto anche i più grandi, che ogni volta che si scende il campo bisogna vincere, bisogna giocare da squadra, bisogna essere positivi e penso che oggi abbiamo fatto una buona impressione anche al mistero. L'ultima, che fatto ti ha fatto ritrovare Lukaku e come l'hai trovato? No, l'ho trovato voglioso, carico di vincere ancora con questa maglia, riuscite a neve a tornare, ha fatto tutto per tornare, però ormai, come ho detto prima, quello che è stato è stato, è stato bello vincere i trofei insieme, però quello che conta è il presente e si parte tutti da zero, quindi bisogna ritornare a vincere. Grazie, buon lavoro. Grazie, grazie a voi. Dopo la bellissima stagione con la primavera, oggi una amichevole di lusso con la prima squadra, come ti sei trovato, com'è andata? Direi abbastanza bene, sono molto contento e devo ringraziare la società, il mister, i compagni, il settore giannale per questa opportunità, per questo percorso che mi sta facendo fare. Nulla, per me è andata bene, però bisogna crescere, migliorare, la strada è ancora lunga. Nella scorsa stagione la difesa dell'Inter è stata la migliore del campionato, le prime indicazioni che ti ha dato Simone Inzaghi in questa stagione? In questa stagione è giocar semplice, star tranquillo, capire i movimenti di gioco e imparare più dagli altri sul campo, su come muovermi. C'è qualche difensore della prima squadra con cui ha un feeling particolare o qualcuno da cui stai rubando di più? L'anno scorso adesso l'aspetto ed è bastoni, l'anno scorso mi sono allenato alcune volte qui in prima e rubavo il più possibile, spero che in questo ritiro altrettanto posso osservarlo da vicino e capire da lui e migliorare da lui. E gli attaccanti invece come li hai trovati da marcare? Ovviamente Romelu e Lautaro sono due top attaccanti, quindi è difficile, però anche lì si migliora perché ti confronti con i più forti e capisci il livello qual è. Grazie. Grazie a te.